Un parroco brindisino, Francesco Caramia di 42 anni, è stato arrestato questa mattina e condotto in carcere con l'accusa di atti sessuali continuati e pluriaggravati su un bambino di 10 anni che voleva fare il chirichetto. Una notizia che ha scosso l'intera comunità religiosa del quartiere. I fatti risalgono agli anni 2009 e 2010. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dal PM Stefano De Nozza e disposto dal GIP Maurizio Sasso. Nel dicembre scorso i carabinieri avevano effettuato perquisizioni e sequestri nella chiesa in cui prestava la sua opera, la San Giustino de Jacobis de Rione Bozzano, notificandogli contestualmente un'informazione di garanzia. Una volta appreso di essere indagato, il parroco si era dimesso dall'incarico. Di recente l'arcivescovo di Brindisi, Monsignor Domenico Caliandro, ha nominato un suo sostituto. Gli accertamenti sono partiti dalla denuncia di un pediatra, formulata nel luglio del 2015. Il minorenne aveva raccontato di aver subito abusi sessuali nei locali della Sacrestia, riferendo anche alcuni dettagli. Don Francesco ha sempre respinto l'accusa, professandosi assolutamente estraneo ai fatti.